ciao a tutti da me e da pomettino molto bene allora oggi siamo qui col vincitore del giovedì perché sennò che lunedì sarebbe allora molto molto bene molto molto bene un cavolo allora prima di parlare di quest perché c'ho da dire c'ho da dire dobbiamo vedere i vostri commenti vincitori molto molto bene cominciamo allora qua sarà lunga il fab coffee tiffany il mandorle in fiore coffee tiffany martina bianco oro lady cappa bianco oro feyli azzurro ed emerald e bianco e oro gerbera verde azzurro emerald francesca duca bianco oro carmela trallo coffee tiffany giorgio gessa coffee tiffany azzurro emerald e verusca piccinelli coffee tiffany non sciogli lingua se lo fai veloce ok quindi coffee tiffany cinque punti bianco oro quattro punti azzurro ed emerald tre punti 5 4 3 2 1 0 le prossime tre opzioni per la prossima volta stelline perline e grumini nessuna combo questa volta qua prendiamo comunque cose che non sono ancora uscite bene meno le combo sono uscite però fatto combo combo e adesso facciamo o stelline o perline o grumini scegliete quel cavolo che volete tra queste cose molto bene allora questo video sarà una scorreggia posso dire scorreggia scorreggiante ok perché perché io vedete quel mix sarà il coffee e il tiffany no quel tiffany lì visto così è bellissimo poi scureggia come uno scorreggione e praticamente è tutto scurito infatti pomettino ha scelto il cespuglino tutto scureggiante pure lui perché mi sono girate se voi vedete io c'ho paura che sia diventato tutto 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 un tutt'uno di un colore solo ho una paura incredibile per me era stato anche consigliato di utilizzare questo stampo come un segnalibro e io l'ho fatto cioè basta cominciamo ho fatto tre stampini solamente con i tre bicchieri perché sono tre uno coffee uno tiffany e uno con il mix momento ruttino ve li faccio vedere c'ho le balle girate perché era veramente un bel mix ma si è andato tutto a allora vedete questo è il tiffany quello che io chiamo tiffany però è diventato un verdone strappo è che ci sono ancora i glitter del galaxy ma vabbè mi sono veramente girate guarda com'è scorreggiante incredibile allora questo è il tiffany quello che così poi abbiamo molto carino comunque però ci voleva più chiaro secondo me perché abbiamo già il coffee che guardate qua proprio color coca cola ed è un color cacca in questo momento in questo caso ed è molto scuro no vedete e poi c'è il terzo mix che mettendo mettiamo qua tutti vicino che ho fatto questo cuoricino nella quale ho preso tutte e due i colori li ho mischiati insieme e l'ho versati qui dentro e vedete c'è boh siamo color cacca da minestrone capito un po verde o da spinaci secondo me quindi boh a parte che non sa nemmeno mettendo a fuoco non solo cominciamo cominciamo secondo me tutto troppo scurreggiante partiamo da questo orsetto io non me ne ricordo nemmeno come l'ho fatto ovviamente potete vedere lo suo patria non ma non me lo ricordo e soprattutto perché poi si è andato tutto così a scurire io non lo so cosa sempre per essere belle bellissimo né però io volevo una cosa che si staccava di più capito porca caccia la miseria mette a fuoco è bello perché c'è i grumini e tutto probabilmente qua ho messo anche il coffee perché vedo delle parti più scure però si è amalgamato troppo tutto troppo troppo tutto vediamo questo quadrifoglio che questo poi appunto si deve tenere da così perché da così è orripilante qua sono anche uscita e sì perché volevo metterne di più per variare un po ma vabbè no non ci siamo è bello tutto quello che vuoi ma no no non è quello che volevo io poi vediamo il segno di questo punto sarà una barretta marrone mi sa che un completo fail questo video questa combo non questo video io mi sono impegnata per farle carine però vedete vedete cosa che non vuole nemmeno mettere a fuoco no incredibile aspettate no no non ci siamo non vuole mettere a fuoco non si capisce niente cioè sono belle perché comunque il colore bello è tutto ma non lo so è un completo fail questo video ok un completo fail lo faccio solamente perché mi sono impegnata per farle perché l'ho fatta e poi è giusto anche far vedere i fail però non ci siamo vediamo la zampina allora che poi è tutto così scorreggiante che il telefono sta facendo fatica a mettere a fuoco questa me l'ha messo a fuoco anche bene allora devo dire che queste parti qua dove c'è il grumino un po più power è carino boh non lo so farò decidere a voi vi ho detto all'inizio che sarebbe stato tutto scorreggiante scorreggiante quindi io più di così non lo so eh sì questo colore è bello però boh forse se se questo pigmento qua restava dello stesso colore della polverina e non che cambiato colore nella resina secondo me veniva un bel mix ma questi qua insieme praticamente c'è vedete non lo so poi ho portato ben due gufini direi di vederli togliamoci tutto quello che dobbiamo toglierci ovvero lo stampo allora vediamo un po' wow questo è molto bello io non so nemmeno se voi state vedendo gli stacchi qua però devo dire che questo è molto bello è perché mi ricordo che questo era quasi finita la resina quindi andavo proprio a prendere i grumini alla fine la la papottina che si forma con la resina e il il pigmento quindi top 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 molto bello questo questo devo dire che mi piace molto eh forse perché si vede più lo stacco perché appunto ci sono più grumini più pigmento più power capite ah ogni tanto però ci sta cioè nel senso l'altra volta col verde e rosa erano uscite qualcosa di incredibile tutte e questa volta è dovuta andare così che cosa ci possiamo fare noi ma niente se è ciapo questo oppure lo stampo un po' rovinato perché fa l'effetto strano eh però non ci siamo 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 posso dire non ci siamo non ci siamo ora manca il gufo e l'elefantino io direi di fare il gufo e vedere e incrociare le dita che l'elefantino riesca qualcosa di strepitoso quindi gufino vediamo un po' ah allora vediamo allora devo dire che questo mi piace molto perché il marrone si differenzia abbastanza vedete qua e qua e poi è tutto un altro mixi molto molto carino questo gufino molto carino ci sta ci sta ci sta però è tutto così un verdone un marone un po' come il cespolino di pomettino ed ora finiamo con l'elefantino qui la vedo dura eccolo qui lui è molto carino come al solito sbam vediamo è un grumino niente di eccezionale niente di niente di ma infatti quando io ho colato la resina ad un certo punto quando vedevo che i colori si amalgamavano così tanto avevo capito infatti io ve l'ho detto subito c'è questo colore qua così chiaro se vedete qua c'è proprio amalgamato troppo col coffee il colore è bello c'è non ho niente da dire però per le combo è bello vedere quando si mettono vicini gli stacchi e le varie sfumature che qua no qua è troppo un tutt'uno però vabbè però vabbè sono molto verdi molto molto bene quindi pomettino cosa ne pensi sei soddisfatto pomettino è soddisfatto quindi a me va bene pomettino per favore dimmi qual è la tua preferita la zampa eh sì perché anche questa qua c'è i grumini quindi ci sta bravo pomettino invece io vi dirò che io vi dico non lo so forse per me direi questa perché è un colore solo però siamo qua effetto combo quindi vi dico questo gufino qua che ha proprio tutta la squazione un po' il marrone qua il più chiaro quindi ci sta questo gufino qua molto bene quindi fatemi un po' sapere che cosa ne pensate di queste creazioni per favore non siate troppo cattivi grazie 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 poi io vi ricordo instagram link amazon e patreon journal infobox per chi volesse supportare me pomettino grazie grazie mille a martina che è abbonata stavo cercando il fogliettino eccolo qui le prossime opzioni ok stelline perline e grumini cosa sono i grumini per chi non lo sapesse praticamente i pigmenti che lasciano tutti i grumini qua quindi i pezzettini di pigmenti che non si sciolgono perfettamente e a me piacciono chiamarlo grumini perché questo effetto qua mi piace molto 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 bene mi sono già rotta le balle di questo video quindi pomettino direi che è giunto il momento di salutare bravo e niente io vi ringrazio di aver guardato il mio video vi mando un sacco di bacini ciao 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 ciao